Abbiamo giocato contro una squadra che ha meritato, anche i tifosi hanno giocato la loro parte, anche loro hanno meritato. Il match, la partita che giocheremo a Sivast sarà un'altra partita e sono sicuro, credo nei miei giocatori, che daremo il possibile per passare questo turno. Avremmo potuto fare scelte migliori, la difesa ha fatto degli errori in fase difensiva creando degli off-site, poi nel secondo tempo abbiamo aggiustato le posizioni dei giocatori e adesso dobbiamo semplicemente pensare al match di ritorno e credo che giocheremo una grande partita. Grazie Grazie